Ciao! Come qualcuno di voi saprà sono ancora in convalescenza, ma questo non mi toglie la voglia di inseguire i miei sogni, i miei desideri. Uno di questi lo stiamo realizzando insieme all'associazione Comip ed è coincidente con la giornata mondiale infanzia e adolescenza. Come sapete quest'anno è il quarto compleanno della nostra associazione e lo festeggeremo venerdì 19 novembre con un evento rivolto alle scuole ma anche a tutte le persone interessate e abbiamo scelto per la terza edizione del nostro evento Vite di Giovanni Cargiver un film svedese che si chiama King of Atlantis. Questo film in Italia è inedito e noi abbiamo deciso di portarlo al pubblico, quindi abbiamo incaricato uno studio di tradurre i sottotitoli in italiano. Perché? Perché chi lo ha realizzato, Simon Settergren, è un nostro fratello, tra virgolette, un agente attivo di cambiamento. La storia del film si ispira alla sua vera storia di figlio di un papà affetto da schizofrenia. Il film, lo vedrete, tocca molto molto da vicino cose che abbiamo anche alcuni di noi vissuto e lo fa in un modo poetico, mai banale e noi vogliamo veramente invitare tutte le scuole gratuitamente a questa proiezione che si terrà online su piattaforma MyMovies. Vi lascio qui sotto il link dove vi potete già cominciare a registrare e prenotare il vostro posto virtuale. Vi prego di aiutarmi a inoltrare questo invito a tutte le scuole, agli insegnanti, agli studenti, ma a tutte le realtà che pensate possano beneficiare dalla visione per eliminare lo stigma e il tabù sulla salute mentale e finalmente dare voce a chi è figlio e non dovrebbe portare sulle proprie spalle pesi come questo. È un'associazione comic pennata proprio per rompere questo tabù e portare tanta tanta luce e sostegno per i ragazzi e le famiglie. Grazie e vi aspetto il 19 su MyMovies.